Il mio nome è Brunilda, sono nascita in Albania, sono un manager di progetto di IT e sono parte della gruppa Laboro. Credo che Green è una forma di vivere e stiamo lavorando molto hard per farlo reale e per mostrarlo a tutta l'Europa. Io sono Conrad, un collega che mi ha chiamato a questo. Dopiero se avviciniamo il sbio, è il 19.00 a 5.00 e ora, in un weekend, a un'altra parte. Sono Andrea Chiriccati e sono un'innovation manager. Io vengo dalla campagna, sono nato qui. Per me l'innovazione è strettamente legata alla sostenibilità e al rispetto delle risorse e delle persone. L'innovazione è una questione verde. Ciao a tutti, sono Viola e qui è dove sono cresciuta. Spending Green is basically about creating connection and addressing needs where needed. Green is not a choice. Green is the solution.